seconda giornata di bett oggi proverò a fare insieme a voi un giro facendovi vedere quelli che sono gli highlights quindi le cose principali che contranno contraddistinto questa edizione di bett 2018 tanti schermi tante stem tanta robotica lo vedremo tra poco iniziamo dallo stand google dove sono state presentate numerose novità parto con una cosa abbastanza particolare non propriamente made by google ma che utilizza google classroom si tratta di breakout edu è praticamente una sfida con dei lucchetti la sfida consiste nel fruire di lezioni all'interno di google classroom i ragazzi devono leggere con attenzione tutte le lezioni tutti i materiali messi a disposizione dall'insegnante per riuscire ad aprire il lucchetto e quindi la scatola all'interno della scatola non c'è niente la ricompensa è semplicemente aprire la scatola stessa grandi novità anche all'interno di google earth vi consiglio di visitare google earth education per scoprirle tutte ci sono molti materiali anche presentato ufficialmente google jamboard ovvero lo schermo touch di google features veramente impressionanti dal riconoscimento della scrittura si scrive sullo schermo in maniera veramente naturale il riconoscimento della scrittura ma anche dei disegni è davvero impressionante mi posso assicurare che per quanto riguarda la collaborazione e quindi con più persone si tratta di uno strumento eccezionale purtroppo fuori budget questi sono i chromebook ormai diffusissimi per lo meno negli stati uniti ed anche in inghilterra ne vengono presentati tantissimi con molte attività e all'interno dello stand google ovviamente si fa anche formazione quindi vengono fatti vedere i vari utilizzi appunto di questi device delle app di google utilizzo lato scientifico quindi anche all'interno del laboratorio si possono utilizzare i chromebook ma non solo vengono fornite anche qui diverse applicazioni gratuite ed esperienze già già pronte per gli insegnati di scienze che possono utilizzare i device dei ragazzi quindi si torna a parlare di bring your own device ad esempio questo è un oscillometro all'interno di uno smartphone le applicazioni sono in grado di raccogliere dati scientifici che poi vengono rianalizzate all'interno delle applicazioni grandissima novità anche per google explorations che adesso si può abbandonare i visori in realtà virtuale ed utilizzare semplicemente lo smartphone per fruire di contenuti in realtà aumentata in questo caso stiamo entrando dentro il colosseo presto verranno rilasciate altre informazioni da google altro grandissimo player all'interno del bet sicuramente microsoft presenti con non con uno ma con due stand veramente ben realizzati tra le tantissime cose all'interno dello stand la collaborazione hacking stem e lego education è possibile costruire grazie ai set lego delle vere e proprie esperienze che poi come vedete possono essere analizzate grazie a dei fogli di excel i ragazzi di hacking stem degli insegnanti comuni che hanno realizzato decine e decine di esperienze per quanto riguarda le stem questo ad esempio è un anemometro costruito con del materiale povero quindi con dei bicchieri di carta degli stecchini e con un arduino uno ed una breadboard e qua aggiunto anche un motorino grazie a queste esperienze i ragazzi riescono non solo a capire il funzionamento dell'anemometro costruendolo ma riescono anche ad analizzare i dati sempre grazie ad excel si tratta di un'esperienza molto interessante qua ad esempio avevano ricreato un un pendolo che serve a bilanciare un grattacielo e anche in questo caso mi dicevano la vera sfida è far capire ai ragazzi come utilizzare i dati che vengono poi catturati dai sensori hacking stem qua il loro biglietto da visita vi consiglio di visitare il loro sito hololens grandissima protagonista per quanto riguarda la realtà aumentata e la realtà virtuale nel settore education sicuramente una delle migliori esperienze al momento per quanto riguarda questo tipo di esperienze immersive grande protagonista dello stand microsoft ovviamente minecraft education edition con tantissimi workshop quello che mi ha particolarmente colpito è stato skype in the classroom che permette di viaggiare di connettersi con classi in tutto il mondo semplicemente avendo a disposizione una webcam e un computer connesso vi consiglio veramente di approfondire l'argomento perché sinceramente mi hanno convinto parliamo di robotica rapid leader del settore tantissimi robot vi faccio vedere quelli un po più elaborati che sono ovviamente pepper già conosciuto anche in italia qua in questo caso non faceva granché ma ecco questo ciuchino è una novità riesce a seguirvi in maniera abbastanza precisa grazie alle videocamere che ha negli occhi veramente molto simpatico soprattutto per i bambini più piccoli e poi now che anche noi in italia conosciamo poi tantissimi altri robot dash and dot robot seguilinea o zobot c'è veramente l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda i robot educativi stampa 3d pensavo che fosse tra virgolette in declino invece no i produttori cominciano a produrre stampanti sempre più sicure perché totalmente chiuse quindi i bambini e ragazzi non riescono ad arrivare alle parti più pericolose della stampante quindi macchinari pensati proprio per l'utilizzo a scuola questo è un braccio robotico che può essere abbinato ad una stampante 3d può essere abbinato ad un incisore laser in questo caso viene utilizzato un pennello cinese per scrivere come vedete con un inchiostro e la precisione è decisamente pazzesca uno dei prodotti da tenere in maggior considerazione che può essere abbinato poi anche a percorsi di industria 4.0 il robot il braccio robotico riesce a spostare dei pesi è totalmente programmabile è una delle novità più interessanti che ha vinto anche un premio al ccs di los angeles di quest'anno arduino presenta dei kit già predisposti con come vedete questa specie di ri show una moto da totalmente da costruire totalmente programmabile e gli arduino ctc e che come vedete questo caso forniscono già esperienze predisposte pi top computer all'interno dei quali si trova raspberry pi quindi diciamo il diretto concorrente di arduino computer che permettono anche di creare poi esperienze di elettronica educativa e ovviamente anche robotica educativa ovviamente dicevamo tantissimi robot tantissimi robot programmabili grazie a queste schede programmabili tra le schede sicuramente vi consiglio di approfondire la conoscenza di microbit un progetto tutto inglese a bassissimo costo che permette di realizzare con materiale povero tinkering cose veramente veramente interessanti qua avevano realizzato addirittura un led wall tutto con decine di microbit sam labs novità dello scorso anno quest'anno si sono veramente allargati tantissimo hanno creato dei kit e il funzionamento è abbastanza semplice si tratta di blocchi che si connettono tramite bluetooth a dei dispositivi possono essere dei tablet oppure dei computer e permettono poi di creare macchine più o meno più o meno semplici come vedete l'interfaccia di programmazione è la cosa che mi piace di più veramente innovativa non ricorda nient'altro al momento presente sul mercato i componenti sono tantissimi e così come i kit l'anno scorso erano partiti con un kit di base per le macchine semplici quindi un motorino delle ruote questo curios kit in realtà adesso si stanno espandendo con il team kit con il classroom kit sicuramente uno dei big player dei prossimi dei prossimi anni la lima è morta beh probabilmente sì non c'è traccia di lima all'interno dei vari stand si trovano solamente schermi schermi interattivi touch multi touch quindi che permettono la collaborazione di più persone sulla superficie tattile come vedete non c'è traccia di lima lo stand che vedete qui della della epson continua a presentare proiettori interattivi ma sinceramente c'erano solo i loro gli schermi ormai la fanno da padrone stanno calando i prezzi e in compenso sta aumentando la definizione stessa degli schermi si arriva fino al 4k e l'esperienza di utilizzo sinceramente tutta un'altra storia asus ha presentato tutta una nuova serie di dispositivi per la classe anche un visore per la realtà aumentata e la realtà virtuale ho provato un viaggio con il rover su mart è decisamente interessante tra le novità dicevamo di questo di questo bet questo chromebook lenovo e 500 che ha dalla sua delle caratteristiche molto interessanti per le classi una penna già dotare che viene già data in dotazione che non è abbinabile tramite bluetooth funziona direttamente senza fare grandi sforzi e la scrittura sullo schermo è veramente eccezionale mi dicevano allo stand lenovo che hanno hanno abbinato a questo prodotto le api quindi diciamo i driver del jam board quindi c'è scrittura predittiva la scrittura è veramente molto precisa e piacevole da utilizzare stemma per i più piccoli come vedete tts propone dei grandi classici come le b bot che adesso sono trasparenti e si può abbinare anche delle action cam e anche qui la la robotica a blocchi la fa la fa veramente da padrone questi blocchi sono programmabili attraverso anche il tablet e ci si può costruire un po di tutto specialmente piccole macchine molto semplici da comandare le stem il trend di quest'anno è avvicinarsi anche al target 36 come vedete in questo caso costruzioni per bambini molto piccole molto piccole quale si può abbinare le stem arredi arredi modulari sinceramente non tantissima scelta come lo scorso anno però continuano a fare da padrone gli arredi modulari arredi che si inseriscono anche all'interno di spazi molto piccoli guardate questa agora in in tessuto e i moduli insomma anche a livello di banche scrivani bene direi che per questa questo giro veloce del bet è tutto vi ringrazio per essere stati insieme a me in questo giro virtuale spero di trovarvi magari il prossimo anno perché io ho tutta l'intenzione di tornare un saluto a tutti voi a presto